La Winter School è una risposta, un luogo di riflessione, fra l'altro è che una domenica mattina ci siano 120 persone, giovani, che ascoltino in questo modo e partecipino attivamente, lascia ben sperare. Qual è la ricetta che si può dare a qualunque cittadino per non lasciarsi fuorviare da un'informazione che spesso lo travolge? La possibilità di inseguire la consapevolezza critica, la libertà critica, è un traguardo, non è un presupposto, quindi presuppone maestri.